Isola dei famosi 2019, Marco Maddaloni abbandona il reality show? Brutte notizie per un concorrente della 14esima edizione dell'Isola dei famosi. Stiamo parlando di Marco Maddaloni che nelle ultime ore ha subito un gravissimo lutto in famiglia. Che impatto avrà questa notizia sullo sportivo? Influenzerà il suo percorso nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi? Isola dei famosi 2019, Maddaloni lascia il reality? Grave lutto per il naufrago. Marco ha perso suo annuncio. A dare il triste annuncio è stato il campione Clemente Russo che sui social ha scritto. Mi stringo al dolore di Ome, ovvero il grande maestro di vita, di sport e di judo Gianni Maddaloni, mio suocero, per aver perso una delle persone più care della sua vita, Samara. Sicuramente in queste ore la produzione Magnolia informerà il diretto interessato e sarà lui a valutare se lasciare definitivamente il programma e raggiungere la sua famiglia oppure rimanere e continuare la sua avventura in Honduras. Manca davvero poco alla finale del reality show di Canale 5 e, l'eventuale ritiro del judoka, potrebbe veramente rimescolare tutte le carte in tavola. Quale sarà la decisione di Maddaloni? Come tutti sappiamo, Marco è molto legato alla famiglia e lo ha più volte ribadito all'isola dei famosi. Proprio ieri, dopo aver letto la lettera scritta lui dal padre, lo sportivo non è riuscito a trattenere le lacrime ed ha raccontato di aver cresciuto in figli insegnando loro gli stessi valori che i suoi genitori hanno trasmesso a loro.